dei governi e delle legislature e il rispetto del voto dei cittadini nelle urne. Su questi due obiettivi abbiamo avviato l'interlocuzione con le forze di opposizione per capire se vi fosse convergenza su questi obiettivi e conseguentemente quale possa essere. Tra i tanti sistemi possibili noi non abbiamo proposto una nostra soluzione preconfezionata, capire quale fosse tra i tanti sistemi possibili quello che può immaginare una convergenza più ampia. La giornata di dialogo è stata, secondo me, proficua, molto interessante. Come avete visto abbiamo discusso molto con tutte le delegazioni. Il nostro obiettivo è, fermi, restando, questo impegno che ci siamo presi con i cittadini a rimettere il più possibile la sovranità nelle loro mani e a garantire una democrazia più matura, che non abbia i problemi di instabilità che abbiamo vissuto noi lungo la nostra storia repubblicana e che non ha uguali nelle altre grandi democrazie occidentali. E ovviamente sulla base di questa interlocuzione e delle posizioni che sono state espresse dai partiti dell'opposizione per la verità molto variegate tra loro, passando di delegazione in delegazione, ora cerchiamo ovviamente di elaborare una nostra proposta che possa tenere in considerazione le valutazioni che sono state fatte. Mi pare che a Monte vi sia una chiusura abbastanza trasversale, più netta su sistemi di modello presidenziale o semipresidenziale, che invece la valutazione sia più variegata nell'ipotesi di una elezione diretta del Presidente del Consiglio o del Capo del Governo. Per noi, come abbiamo sempre detto, non siamo innamorati di un sistema nello specifico, ci sono tanti sistemi che possono essere presi a esempio nelle altre democrazie e c'è anche la possibilità di immaginare un modello che sia un modello italiano. Non ci siamo presentati con una nostra proposta perché ritenevamo per l'appunto che fosse importante anche dialogare con le altre forze politiche sul sistema delle regole, e quindi abbiamo ascoltato volentieri. Voglio ringraziare tutte le forze politiche, i gruppi parlamentari che hanno partecipato perché il dialogo è stato molto aperto, franco, ma è stato anche collaborativo. Ha aiutato noi ad avere le idee più chiare. Noi continueremo con questo nostro ascolto, anche con gli altri livelli istituzionali, con la conferenza Stato-Regioni, con i sindaci, probabilmente anche con i corpi intermedi. E all'esito di questo ragionamento, e dopo aver raccolto tutte le valutazioni, fermo restando l'impegno che abbiamo assunto con i cittadini di consentire il rispetto delle loro indicazioni di voto e di consentire che la nostra sia una democrazia matura, nella quale i governi non cambiano dopo un anno e mezzo, formuleremo ovviamente la nostra proposta. Grazie a voi per la pazienza. Prego. Il Governo intende portare a casa le riforme con o senza l'opposizione, a prescindere da quello che l'opposizione farà, o è fondamentale che ci sia una condivisione al di fuori del perimetro della maggioranza? Grazie. Guardi, per me è molto importante che ci sia una condivisione e spero di ottenere una condivisione più ampia possibile e più ampia di quella della maggioranza, ma non a costo di venire meno agli impegni che ho assunto con i cittadini, perché noi rappresentiamo cittadini che ci hanno dato un mandato. Credo che tutti quanti si rendano conto, e tutti quanti si rendono conto anche nelle interlocuzioni che abbiamo avuto oggi, che l'instabilità della politica italiana ha prodotto danni molto importanti alla nostra nazione, che non ha uguali, per esempio, nelle altre grandi democrazie europee. Lei guardi la Francia, guardi la Germania, parliamo di sistemi nei quali, nello stesso periodo nel quale noi avevamo, bah, non ricordiamo più neanche quanti governi. In Francia, in vent'anni, c'erano venti presidenti della Repubblica, che lì, come lei sa, corrispondono al capo sostanziale del governo, tre cancellieri in Germania, e non è solamente un fatto estetico, è un fatto di risposte, perché negli stessi vent'anni, prima dell'arrivo della pandemia, diciamo nei primi vent'anni del nuovo millennio, mentre l'Italia cresceva di quattro punti percentuali di PIL, Germania e Francia crescevano di venti punti. Allora, poiché io non parto dal presupposto che la nostra classe politica è più scarsa di quella francese, di quella tedesca, probabilmente c'è qualcosa che non funziona nel sistema, e quello che non funziona nel sistema è questa instabilità, perché a un orizzonte corto del governo corrisponde una politica di respiro corto. è evidente che quando io vivo sempre con l'idea che si sta per tornare a votare, tendo a privilegiare quello che immediatamente torna in termini di consenso, è la ragione per la quale noi privilegiamo la spesa corrente rispetto agli investimenti, che hanno un moltiplicatore significativamente superiore, è la ragione per la quale noi non abbiamo una strategia di politica industriale, è una ragione per la quale non abbiamo una strategia su moltissime cose. Questa instabilità ha prodotto la nostra debolezza economica, ha prodotto i problemi di credibilità che possiamo aver avuto anche a livello internazionale, quando i nostri interlocutori rimangono spesso lo stesso interlocutore per almeno qualche anno, e ogni volta che siedono con un esponente italiano si chiedono la prossima volta chissà se sarà questa persona di nuovo il mio interlocutore da parte dell'Italia, e hanno prodotto la disaffezione da parte dei cittadini che vediamo, che è data non solo dall'instabilità, ma anche dal fatto che i governi sono stati, diciamo così, disfatti e rifatti sulla pelle e diciamo all'interno del palazzo senza che i cittadini su questo potessero dire la loro. E guardi, non è un tema di persone, è un tema di programmi, perché noi abbiamo delle volte dato una lettura, diciamo, delle istituzioni, come se le istituzioni fossero di proprietà dei partiti, no? o di chi le abita. Non è così. Le istituzioni sono le proprietà dei cittadini che esercitano quella, diciamo, quel possesso per il tramite dei partiti e degli esponenti politici. Ma questo vale se c'è un vincolo. Vale se quando io voto per farmi rappresentare, quando voto un programma perché venga realizzato, quando voto una visione perché venga realizzata, e poi quella visione viene completamente rivista, riscritta nella formazione di governi con maggioranze variabili, con maggioranze molto diverse da quelle che siano presentate alle urne, questo fa venire meno, diciamo, il peso dei cittadini nella partecipazione alla democrazia. E io credo che questo abbia tolto molta parte della affezione dei cittadini alle istituzioni. E alla fine ha reso debole non tanto la politica, non tanto il governo, ha reso debole lo Stato. Vorrei uno Stato che fosse in grado di mantenere il suo vincolo con i cittadini, che fosse in grado di avere la stabilità necessaria a realizzare una visione e a essere giudicato alla fine di quel lavoro. Come accade? Quasi ovunque. In Italia non è accaduto e ne stiamo pagando le conseguenze. Sì, buonasera. Una rapida domanda. Il Presidente Conte ha detto che è disponibile a una commissione bicamerale. Calenda, anche la Boschi, hanno detto che per loro qualsiasi strumento va bene. La segretaria del PD, Schlein, che abbiamo appena sentito, ci ha detto invece che anche per lei non è importante lo strumento, ma chiede che, come dire, il confronto sia allargato anche ad altre riforme che incidono sull'ordinamento come l'autonomia differenziata. Vorrei sapere da lei se c'è una disponibilità sulla bicamerale e per quanto riguarda l'autonomia differenziata se c'è una disponibilità ad allargare il confronto. Grazie. Guardi, ho già detto alla segretaria Schlein che sono disponibile ad allargare il confronto e per quello che riguarda diciamo lo strumento migliore per arrivare all'erroma costituzionale è un dibattito aperto, io non mi faccio preclusioni. Il punto è sempre l'obiettivo. Il punto è se queste richieste hanno o non hanno un intento dilatorio. Perché se il confronto è serio, se il confronto è nel merito e se si parte dal presupposto che qualcosa bisogna fare io sono disponibile a parlare di tutto. Quello che è più difficile per noi fare è perdere tempo all'infinito e non riuscire a fare neanche stavolta che abbiamo fortunatamente per ora una maggioranza solida e un orizzonte sufficiente a consegnare all'Italia una riforma che sia chiaro lo stiamo facendo per noi stessi. Perché è una riforma che noi consegniamo al prossimo governo e quindi consegniamo a tutte le forze politiche. Ma è una riforma che può lasciare il segno di una democrazia matura, più forte, più efficace, capace di dare le risposte che servono, capace di immaginare progetti di lungo periodo e che soprattutto risponda a quello che i cittadini vogliono. Articolo 1 della Costituzione. Quindi io sono come si è visto anche oggi perché poi si è parlato di molti temi che ruotano attorno al tema della riforma costituzionale il ruolo del Parlamento la decretazione d'urgenza l'autonomia differenziata la legge elettorale si è parlato un po' di tutto io sono disponibile al confronto o alle idee abbastanza chiare su cosa sia necessario e su cosa sia invece secondo me meno efficace a ottenere il risultato quando qualcuno propone come elemento di stabilizzazione esclusivamente la sfiducia costruttiva che di fatto vuol dire lasciare il sistema com'è e togliere al Presidente della Repubblica le consultazioni a me non pare diciamo una riforma risolutiva e quindi su questo se fosse solamente quello secondo me insomma non ci sarebbe la volontà e non c'è in quel caso la volontà di fare quello che secondo noi è necessario fare ma su quale debbano essere gli strumenti quindi il metodo e anche sul merito poi guardando allo strumento più efficace io sono disponibile a dialogare sono anche disponibile a spiegare come l'autonomia differenziata e la riforma delle istituzioni centrali si tengono insieme perché un'altra cosa che noi non consideriamo è che oggi nel dibattito tra potere centrale e diciamo amministrazioni locali c'è una diversità fondamentale di anche qui orizzonte e di autorevolezza perché c'è un Presidente del Consiglio che dialoga con le autonomie locali il Presidente del Consiglio non è eletto direttamente dai cittadini le autonomie locali sì il Presidente del Consiglio ha un orizzonte mediamente di un anno e mezzo le autonomie locali di cinque anni anche questo produce uno squilibrio nel nostro ordinamento e quando noi abbiamo pensato all'autonomia differenziata insieme alla riforma che stiamo avviando ora l'abbiamo pensato come un unico pacchetto l'abbiamo fatto ovviamente in momenti diversi perché hanno anche tempi e procedure completamente diverse ma secondo noi si tengono insieme e anche su questo siamo disponibili al confronto e stiamo facendo un lavoro molto importante per consegnare a questa nazione i livelli essenziali che finora nessuno è riuscito a fare e su questo chi vuole dare una mano è assolutamente benvenuto buonasera e poi ripeto io devo dirle che ho trovato le posizioni delle opposizioni molto variegate per cui non è facile io speravo diciamo di avere una posizione delle opposizioni più come posso dire più coesa invece sono molto molto diverse le posizioni tra i vari partiti ma sicuramente tra l'ipotesi diciamo di elezione diretta del Presidente della Repubblica quella di elezione diretta del Capo del Governo la seconda riscuote sicuramente maggiore timida apertura e quindi questo va tenuto in considerazione da parte nostra grazie a tutti grazie buona serata